Io mi preoccuperei più del fatto che siamo ormai a novembre e qui siamo ancora a mezze maniche con un sole che spacca le pietre ragazzi. Ecco, questo forse non è tanto normale, altro che patente e tessera sanitaria in digitale. Finalmente ragazzi, alle porte del 2024, possiamo finalmente lasciare a casa i nostri documenti cartacei e avere tutto a portata di mano sul nostro smartphone. Grazie al servizio IT Wallet, integrato nell'applicazione Io, per buona pace dei complottisti. Ve ne avevo già parlato in un precedente video che ha raccolto pareri discordanti. Comunque è da ieri attiva, ufficialmente per un numero ridotto di utenti e progressivamente per tutti i cittadini italiani fino al prossimo 4 dicembre, il servizio IT Wallet. Nuovo servizio molto discusso che ci permette di archiviare la patente, la tessera sanitaria e altri documenti e man mano ne verranno aggiunti di nuovi direttamente su un'applicazione, quindi sul nostro smartphone. E attenzione perché i complottisti sono già in rivolta e se anche tu che stai guardando questo video dietro la tastiera sei un complottista, beh, ascolta bene. Questo nuovo servizio non è affatto obbligatorio e non sostituirà i documenti cartacei che hai sempre portato con te. Se vuoi continuare a portarti i documenti nella loro versione cartacea, in tasca, nel portafoglio, sei liberissimo di continuare a farlo. Perché, lo ripeto ancora una volta, questo è un servizio digitale, non obbligatorio, ma comunque comodo e utile in previsione del portafoglio digitale europeo previsto per il 2026. Comunque questo nuovo servizio è davvero comodo e facile da utilizzare, in pochi passaggi ci permette di archiviare patente, tessera sanitaria e altri documenti sull'applicazione e quindi in caso di necessità esibirli utilizzando solamente il nostro smartphone. E altro grosso punto a favore, in caso di furto dei nostri documenti cartacei ci sarebbe un'altra fila abbastanza lunga tra la denuncia, la richiesta di nuovi documenti e quant'altro. Se invece ci rubano unicamente lo smartphone, beh, a parte che non possono accedere ai nostri dati perché protetti da password, PIN, riconoscimento facciale digitale, ma ci basterà avere un altro smartphone, magari quello di un amico o di un familiare, e accedere all'applicazione io con le nostre credenziali per avere subito accesso, nuovamente accesso, ai nostri documenti. E questa è una gran bella comodità. Voi ragazzi però cosa ne pensate di questo nuovo servizio T-Wallet? Trovate che sia utile? Trovate che sia inutile? Comunque sia dite la vostra opinione lasciando un commento qui sotto e vi ricordo che sarà disponibile per tutti entro il prossimo 4 dicembre. Ovviamente mi aspetto anche i commenti di complottisti vari che mi dispiace non riescano a informarsi nel modo corretto e purtroppo si cade sempre nelle discussioni sterili fatti di Io so questo, mio cugino mi ha detto questo, insomma bisogna sempre informarsi correttamente perché internet, questi servizi digitali sono comodissimi, sono una cosa fantastica, ma bisogna utilizzarli correttamente. Va bene ragazzi se questo video è stato di vostro interesse lasciate un bel like per supportarmi, condividete i vostri amici e iscrivetevi al canale. Io mi preoccuperei più del fatto che siamo ormai a novembre e qui siamo ancora a mezze maniche con un sole che spacca le pietre ragazzi, ecco questo forse non è tanto normale, altro che patente e tessera sanitaria in digitale. Vabbè, alla prossima, ciao ragazzi. Grazie a tutti i nostri amici.